Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutte. Nuovo video svuota la spesa, un vero unboxing spesa. Ciao Franci! Siamo con Melania a farvi vedere la nostra spesa di oggi, 25 novembre, giorno molto particolare. Esatto. Spero che ci pensi Dio a fare qualcosa, perché l'umanità si sta perdendo del tutto nelle pazzie. Quindi auguriamoci e invochiamo l'Altissimo, perché faccia lui, le chiacchiere non hanno sostanze. Qui ci vogliono i fatti del Signore. Basta, non ci vuole altro. Allora, cominciamo con questa spesa che abbiamo potuto comprare, grazie a Dio, da Despar, a Palau. Allora, torno a Rionare. Qui ce ne sono quattro vasetti, da 80 grammi l'uno. Quindi 8,8,16, 320 grammi sarebbero. Sono costati 6,35 euro. Poi zucchero de Spar. Zucchero de Spar. 1,40 euro. 1,40 euro, naturalmente. Poi Nesquik, 500 grammi. Nesquik. Nesquik, io non lo so neanche dire, scusate. Va bene, non importa. Fatevi una risata che anche quello ci vuole. Infatti Nesquik, che scopo. Nesquik, 500 grammi, 4,99 euro. Uova Fod, che sarebbe il padrone, quello che riproduce. Allevamento a terra. Uova medie. Scadenza 11,12. Sì, c'è tempo. Allora, uova Fod. 6 uova 1,85 euro. Sono medie, così dice. Vitalis, l'abbiamo messo, no? Due scattere di uova. No, sono messi, non sono insieme. Allora, Vitalis. Cereali. Croccanti. Muesli. Croccanti, messi di frutta con uvetta, mertilli, rossi e mele. 310 grammi. Non è che costi poco, eh? 389 centesimi. 3,89 euro. Olio extravergine di oliva, classico, estratto a freddo. Beh, l'olio del frantoio non c'è né di cucina che lo scalda. Quindi, mi pare superfluo a questa cosa. Selezione di oliva e raccolte a frante nell'Unione Europea. Quindi, non sono neanche italiana. Volevo vedere bene. Quindi, non mi piace. Unione Europea, ecco. Ecco qua. Un litro, vedete? Salame Chiorucci. Allora, 19,90 al chilo. Ha pesato 60 grammi. Quindi, un euro e 19 centesimi. Colmaggio grana padano. Colmaggio grana padano, sempre di sparte. Allora, 16,90 al chilo. 382 grammi. 6,46 centesimi. Accolo qua. Girano qua. Sì, ecco qua. Vedete? La ragazza si veste verde. Uova a fondo. Ancora. Secondo pacchetto. Secondo pacchetto di uova. 1,85 euro. Sempre come l'altro. Capperi. I capperi sono di qua. Capperi salati. Come sono questi? Capperi, sale e sottosale. 140 grammi. 2,49 euro. Queste le urivi mi servono per fare domani. Se è pronto il baccalà, se è andato via il sale, li farò. Al forno, aglio, prezzemolo, capperi, cipolla. Poi metterò peperoncino, non troppo. Poi metterò peperoncino, pelati e patate. Sono buonissimi. E non si spende molto. Pomodori pelati. Pomodori pelati. Questi sono. No, da 400 grammi. Questi qua. Ne ho preso due. Dice che erano 1,19 euro. hanno tolto 60 grammi. E quindi mi vengono dalle 1,19, mi vengono scalcolati 60 centesimi. Pomodorini scerri. Scerri. Scerri, come si dice. Quanto a frutta. Prodotto varietà, comodoro ciliegino, provenienza Italia, Sicilia. E' bello. Questa è una bella notizia. Non ho scelto male, allora dai. Sì, sì. Allora, questi sono 500 grammi. Comodori pelati. Comodori scerri o come si chiama, ma qui c'è scritto ciliegino, cosa c'è scritto? Sì, pomodori ciliegino. Ciliegino. Esatto. Mezzo chilo, 2,49 euro. Olive de sparte. Olive denocciolate, nere. Anche queste servono per le patate con il baccalà e le cose che vi ho elencato. Avvicinano. Eccolo qua. Sono, quanti grammi ce n'è? Siete. Siete. 125 grammi, beh, sono senza acqua, eh? Uh-huh. Sì. Latte intero d'arborea, 2,19 euro. Questo è molto buono. A me piace tanto. Non lo voglio nemmeno. Lo uso così, freddo, o lo posso anche scalare. Poi cipolle dorate. Eccoli qua. Sono al chilo, e li peschiamo, li prendiamola. Questi al chilo sono 1,79 euro. Sono usciti 855 grammi, quindi 1 euro e 53 centesimi. Diciamo che è il prezzo passabile. Lievito Bertolini. Bertolini, eccolo qua. Vanigliato, agente lievettante. Saranno 4 bustine, credo. Allora, e non lo dice, ma saranno 4, sì, eccoli qua, 4 bustine. E costa 1,69 euro, ed è così che è un buon prezzo. Allora, 3 banane, 3 banane a 2 euro e 9 centesimi al chilo. Hanno pesato 715 grammi, quindi 1 euro e 49 centesimi. Hanno anche un bel profumo, deve essere buoni. Noci, cilene, sui ghi, chissà come saranno. Eccoli qua, questi sono al chilo 4,90 euro, hanno pesato 355 grammi, allora 1 euro e 59 centesimi. Il prezzemolo, voglio vedere. Il prezzemolo, 79, oh no, scusate, 89 centesimi. Ecco, totale 56,19 euro. E questo è, poi ho preso, appena di carne, da la macelleria di signor Pietro Giano e signora Monica. Ho preso un pezzo di carne, da ruolo. 10,50 grammi al chilo, vetellone, 500 grammi, ha pesato 500 grammi a 10,50 grammi, mi sembrava che fosse a 9,50 grammi. Forse perché è di vetellone, allora, sono totale 5,65. Poi ho preso una bella fettina di scottona, 252 grammi a 19,90, che è uscita 5,1 euro. Totale 10,66 euro. E la spesa è fatta in aiuto in tutti questi giorni, qualche cosa abbiamo in casa, e così andremo avanti. Quindi, totale complessivo è 56 euro. Se Dio ci aiuta. Se Dio ci aiuta. Ok, ragazze. Bene, per ora è tutto. Ci vediamo, ci vediamo al prossimo video. Vi salettiamo con affetto e stima, tante buone cose per tutti. Speriamo in tempi migliori che si componga tutto questo disastro mondiale che c'è. Ciao, a presto. Arrivederci. Un bacio. Ciao, ciao.